La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 4 novembre. Nel dettaglio, l'allerta gialla è prevista per le province di Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa e parte del Palermitano. In particolare sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale sui settori occidentali e meridionali con quantitativi cumulabili da deboli a moderati, da isolate sparse anche a carattere di rovescio temporale sui restanti settori con quantitativi cumulati generalmente deboli. Un ulteriore peggioramento potrebbe registrarsi dalla mezzanotte di oggi e per la giornata di domani. Intanto, già ieri sera, diversi esercenzi hanno potuto verificare l'attivazione del servizio Alert System, annunciato nei giorni scorsi dall'amministrazione e finalizzato a dare tempestiva comunicazione ai cittadini in caso di condizioni meteo avverse, così come incendi, interruzioni e guasti nell'erogazione dei servizi e attività di disinfestazione. Hanno ricevuto al telefono fisso la comunicazione dell'allerta meteo gialla in vigore nel territorio del comune di Sciacca fino alla mezzanotte di oggi. Telefonata che ha stupito quanti non erano al corrente dell'attivazione di Alert System che al momento interessa quanti hanno la linea fissa del telefono. La società ha infatti acquisito per il momento la banca dati di queste utenze dalle varie compagnie telefoniche. Sono 8.100 a Sciacca e a questi utenti ieri sera è arrivato il messaggio dell'allerta meteo gialla. Chi invece vuole ricevere le notifiche o i messaggi sul cellulare dovrà effettuare la registrazione del proprio numero tramite il numero telefonico 0925 49 23 301. È necessario iscriversi all'apposito link registrazione cittadino e scaricare l'applicazione iOS o Google Play.